Uuuuh! C'è qualcuno? Ehi, ciao! Ciao! Sono Mico, il mio piacere! Senti, stavo pensando, ti va di fare una bella festa stasera? Ho inviato un po' di gente a casa e ho conosciuto già un sacco di gente all'università! Eeeh, no, no. Ciao, chiudi la porta, per favore, sto studiando... E' una vita carina, comunque, pensaci! Matricole! Parti, parti! Stanno citocolando, dov'è il citocolo? A fianco a te! Parti, ma questo è un congelatore, come si apre? No, lì ti c'è una chiave, la giri, no? Ok? E si apre! Ma come funziona? È tutto in comune, posso prendere quello che voglio? No, ciccia! Vai al supermercato, te lo compri e poi ti mangi quello che tu ti compri! Patti, inquilina mia, scusami, ma questa qua è una lavastoviglia che asciuga pure, per caso? Patti! Patti non c'è! Patti, ma dov'è la scopa? C'è la pasta? Sì! Senti, ma come si utilizza? Eh! Perché non l'ho mai usata! Ti faccio vedere! Allora, tu la prendi e poi vai così! Raga, la tv dopo le 9 di sera va abbassata! Puoi non sbattere la porta quando rientri? Grazie! Scusate! E puoi toglierti pure i tacchi? Grazie! Ah! E non si scarica la notte! Grazie! Scusate, potete accoppiarvi in silenzio? Grazie! Mi ti va un caffè? Ma sì, dai! Allora, valla a preparare e poi mi chiami! Mi! Stai utilizzando il grande fratello, ce lo vediamo! Facciolo dopo però, dai! Ora non mi sembra il caso! Carini! Mi! Mi sono innamorata! Ciao Gianni! Mi ha incontrato il figo! Bellissimo! Ci sono pure i guardali degli occhi! Ma te! Te vanno da un secondo in bagno proprio! Vai 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 vai! Mamma dovevo fare la carta! No! Perché ci devo vedere il numero! Pertanto l'ha giunto sull'isca! Non so se fa la paga oppure andare diretto e chiedergli il numero! Raga! Chi è che ha utilizzato la mia carta igienica? Mancano due strappi! No raga! La spina polvere non la utilizzate consuma troppo! Fai quella scopa! Raga! Però le luci le dovete spegne! Ah mi stai lavando di nuovo? Si era sporco! Senti poi con quell'acqua lavaci anche i piatti se no si spreca! Scusami! Mi! Dimmi! Ma non è che mi puoi ridare quei 20 centesimi della spesa in comune? Allora guarda ora c'ho 5 e dopo ti ho dato i 15 centesimi! Ok perfetto! No che devo fare la spesa! Eeeh! Nicole! Senti ma pure per il tuo gatto paghi il condominio? Quindi siete quattro in casa ma io la quarta non l'ho mai vista! Eh ma non si fa tanto vedere! Ciao! Ciao! Raga vi sto mandando la divisione di tutte le bollette che si devono assolutamente pagare altrimenti ci staccano l'acqua e vi mi devo lavare! Raga io lo so che vi ho scritto due minuti fa però cioè cercate di rispondere perché io sto facendo tutto questo per voi ok? Raga io però vi ho scritto 10 minuti fa e ancora non mi è arrivato il bonifico delle bollette! Grazie! Grazie! Allora ragazzi come vedete questi sono tutti i turni delle pulizie! Sì! No vabbè! Raga no si deve andare assolutamente a comprare la cartigianica perché sta per fini e sinceramente è pure lo sgrassatore! eh! Lo so! Ti sei dimenticata che piace! Scusami davvero! Mi è pronto il caffè! Oddio! Eh Patry la fiamma però! Che fiamma! Ehm! Non ci penso io! 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 Ma ehm! Oddio scusa è che mi scordo sempre di spostarlo vai! No! E la veneto non si fa! Comunque tranquilla! Poi quando c'è tempo la suona lo sposti! E anche devi venire giù a prenderlo! Così ci passi dai! Sì dai! Ci passi! Come? No! 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 No!